Il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini ha lavoro per varare l'ordinanza che adegua il prezzario nel cratere ai parametri per l'erogazione dei fondi. Un documento molto atteso dalle aziende e dai sindaci del cratere perché permette di non rallentare la ricostruzione, atto che dovrebbe arrivare a seguito della nuova riunione della cabina di coordinamento in programma per oggi, volta a definire l'ordinanza proposta dal commissario straordinario e prevede l'adozione sia di un nuovo prezzario unico per il cratere che tenga conto del rincaro dei materiali, sia l'incremento del costo parametrico, ovvero degli strumenti che servono per determinare il contributo di ricostruzione, destinato ad aumentare nuovamente dopo un aumento temporaneo già deciso nello scorso mese di agosto. Un impegno che il commissario aveva assunto lo sta portando a termine, lo stiamo portando a termine come cabina integrata per il cratere ed è ovviamente una ordinanza di cui avevamo bisogno, avevamo bisogno proprio per impedire che potesse esserci un rallentamento rispetto ad una ricostruzione che finalmente ha preso corpo, sta prendendo un'accelerazione che è quello che chiedevamo da tanti anni con le norme, un cantiere normativo che ha consentito soprattutto la ricostruzione privata di arrivare a numeri importanti e soprattutto costanti. Quindi non potevamo e non possiamo assolutamente consentire che ci sia un freno o comunque un rallentamento rispetto ad un processo che ci consentirà di rivitalizzare i nostri territori, la città di Teramo ma direi tutte le aree interne abruzzesi dell'intero cratere. Ormai ci siamo, è chiaro che dobbiamo sempre ricordare che con le ordinanze si può fare non tutto, nel senso che ci si deve muovere all'interno della cornice normativa di quello che le leggi dicono, ecco perché è importante che anche il legislatore si faccia carico delle problematiche della ricostruzione e torni a considerare la ricostruzione come prioritaria come è stato finora grazie al lavoro del commissario e dei sindaci e delle regioni perché ovviamente gli interventi che devono essere adottati a livello normativo spettano al Parlamento. Intanto devo ringraziare il commissario Legnini, devo ringraziare tutti i sindaci, tutti i subcommissari, i presidenti, i vicecommissari, i presidenti di regione perché veramente questo lavoro di squadra intanto ci ha consentito di dare questa risposta.